Ciao ragazzuoli, oggi direi, ecco mentre va via il focus, direi giornata importante, giornata di ottime notizie innanzitutto c'è stato l'annunciato e verificato closing ufficiale con tanto di comunicato confermate, ma adesso bisogna ancora capire in che forma, qua si parla di partecipazione di minoranza però sarà più interessante vedere il dettaglio appunto dello schema proprietario, magari ci sarà possibilità di farlo magari mediante alcuni approfondimenti dei siti più noti, tipo calcio e finanza, aspetta ancora un po' a vedere però sembra confermata la partecipazione attraverso una società legata agli Yankees e anche quella del cosiddetto fondo società di investimento Main Street Capital, da non confondersi con Main Street State Street Global Advisor che è un'altra cosa, che è un'altra società di risparmio gestito. Che dire, leggendo le dichiarazioni di Jerry Cardinale sembra che l'intenzione sia chiara, insomma portare il Milan, lui dice mantenere, io dico riportare, mantenere perché storicamente ci siamo, ma riportare i vettici di calcio europeo e internazionale in Milan e questa è davvero un'ambizione che ci riempie il cuore. Soprattutto punta ancora una volta sul discorso dell'entertainment, quindi tutto ciò che è legato a promuovere il brand Milan come, diciamo, spettacolo in sostanza, perché effettivamente ha un brand forte, ha dei calciatori giovani e prestanti. Quello che sarà importante, secondo me, e lo dice anche lo stesso Cardinale, sarà fare lo stadio, perché per un, diciamo, se tu hai una qualità nella materia che vuoi presentare nel piatto, ti serve anche un bel piatto, non è che puoi andare col piatto scheggiato. Devi offrire uno spettacolo completo, come dicevamo sempre, che fanno in Premier League e quindi secondo me sarà importantissimo da questo punto di vista creare uno stadio fatto apposta per valorizzare un brand, fatto apposta per valorizzare appunto uno spettacolo ed è sempre più vendibile uno spettacolo affinché aumenti il fatturato, fatturato che aumenta significa maggiori possibilità di spesa per il Milan, che non significa spendere a caso, però ha ancora più potenzialità di rafforzarsi in maniera ragionata su obiettivi importanti. Questo è lo spirito, è proprio in funzione di obiettivi importanti, è spirito importante, secondo me va in questa linea Vranks che è atteso in serata per la firma, cioè, perdon, indirettamente a Milano questa sera e domani ci dovrebbero essere le visite mediche e la firma. Stiamo a vedere, comunque buona buona giornata, vi saluto tutti, anche qua il tempo è migliorato, un abbraccio, ciao!